Ciao a tutti voi da Rasi, benvenuti all'appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia di Autocogliati, della responsabile marketing Sara, che siamo separati da questa splendida esatto, siamo proprio separati da questa ID, che è la nuova ID3, nuova nata di casa Volkswagen che porta in scena il cambiamento perché ha un design veramente innovativo e anche le sue prestazioni sono straordinarie però non sta a me descrivervela perché dopo ci sarà Daniele che vi racconterà tutto quindi poi lasceremo la parola a Daniele. Io ne approfitto per ricordarvi dove siamo, siamo in via Gallarate 253 a Milano e vi ricordo i nostri orari, l'orario della vendita dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, dal lunedì al sabato proprio per evitare lunghe attese e anche per salvaguardare la vostra sicurezza vi invitiamo a prendere un appuntamento quindi capiamo che è magari un sacrificio però è proprio per voi, per tutelarvi, anche tutelarci quindi confido nel vostro senso di responsabilità. Bene, mi sembra molto importante questo discorso Sara che hai fatto proprio per la tutela di tutti visto il momento che stiamo attraversando. Comunque l'importante è prendere note di indirizzo, numero di telefono prendere l'appuntamento e venire qui per vedere tutte le novità. Ed ora lasciamo la parola a Daniele? Sì, allora lasciamo la parola a Daniele. Grazie Rosy e Sara e benvenuti anche da parte mia. Adesso siamo qui per farvi vedere quello che è la nuova ID.3 autovettura completamente elettrica con 420 chilometri di autonomia o 550 chilometri di autonomia con il pacco batterie da 77 kilowatt e prezzi a partire da 38.900 euro ma con il contributo statale arriviamo a 28.900 euro più i PTI e messe strada. Qui abbiamo la versione con fari full LED, cerchi da 18 pollici, gli allestimenti presenti sono 7 e soddisfano le esigenze di tutti, di veramente tutte le persone. Per quanto riguarda il design innovativo dell'autovettura è una vettura completamente ridisegnata da Volkswagen con i nuovi stili per quanto riguarda la parte elettrificata dell'autovettura. Gli interni sono totalmente innovativi quindi troveremo solo sulla versione ID.3 il design con schermo da 10,25 pollici e il nuovo cruscotto digitale. Passo ora a farvi vedere l'autovettura dall'interno. Eccoci qui. Quindi volevo farvi vedere quello che è l'interno dell'autovettura. Nuovo design della parte infotainment dove troveremo tutto quello che riguarda la gestione dell'autovettura come autonomia, punti di ricarica, navigazione, telefono e la gestione delle app del proprio smartphone. Nuovo design del cruscotto digitale che segue l'andamento del volante quindi avrete la possibilità di averlo sempre sott'occhio. E nuova gestione del cambio automatico. Molto veloce e rapido vicino alle mani per non avere sempre le mani sul volante. Quindi totale sicurezza sull'autovettura. Tutti i comandi sul volante sono touch e la gestione per quanto riguarda il climatizzatore e tutte le funzioni dell'auto avvengono sul monitor da 10 pollici molto ampio. Come vi dicevo, ID.3 è l'autovettura più tecnologica e più sicura di Volkswagen. Ha presenti tutti i sistemi di sicurezza come mantenimento della corsia, rilevamento dell'angolo cieco, quindi piena sicurezza, riconoscimento dei cartelli stradali e controllo di velocità di crociera adattivo, addirittura predittivo, ovvero in base alle condizioni e alle informazioni che riceve l'autovettura gestisce in modo più sicuro quello che è il controllo di velocità di crociera. Una domanda invece che ci fanno tutti i clienti è la gestione delle batterie. Bene, Volkswagen, le batterie sono di proprietà del veicolo, quindi del proprietario dell'autovettura, sono garantite fino a 8 anni 160.000 km con la loro range di potenza fino all'80%. Per quanto riguarda invece le ricariche, Volkswagen dà al proprietario del veicolo una tessera che è convenzionata con la maggior parte delle colonnine di ricarica dove gestirà con un'unica app e con un'unica tessera quello che riguarda tutti i punti di ricarica. Quindi il cliente non dovrà più gestire con mille app le varie colonnine e quelle che sono le ricariche. Nel suo genere unica vettura che riesce a ricaricare fino a 100 kW ora, quindi con le colonnine fast charge riusciremo a ricaricare da 0 a 100 in 40 minuti l'autovettura. Il pacco batterie sono presenti due, 55 kW e 77 kW per chi ha le esigenze di utilizzare l'autovettura per un range di chilometraggio più alto, fino a 550 km. Per quanto riguarda i prezzi ve li ricordo, partiamo da 38.900 euro che con il contributo statale di 10.000 euro partiamo dai 28.900 euro. Veniteci a trovare, abbiamo già delle vetture in pronta consegna, abbiamo la possibilità di farvi il test drive, quindi toccare con mano l'autovettura e provarla su strada e vi ricordo la potenza, 204 kW, quindi vi darà tante tante emozioni. Siamo in compagnia di Francesca, la nostra assistente alla vendita. Grazie Sara, un saluto anche da parte mia. Come anticipato poco fa da Sara, il mio consiglio è quello di fissare un appuntamento contattandoci al numero del centralino che vedete in sovraimpressione oppure scriverci una mail al nostro indirizzo milanochiocciolaautocogliati.it per essere seguiti nel migliore dei modi dai nostri consulenti. Benissimo Francesca, adesso introduciamo l'altra novità che è nuova Tiguan. Nuova Tiguan che è più potente, tecnologica e anche connessa che mai. Quindi si rinnova, vediamo qua vicino a noi, nella sua veste per essere ancora più bella. Ma lasciamo la parola sempre al nostro Daniele. Grazie Sara e Francesca, sono qui a farvi vedere l'ultima arrivata di casa Volkswagen, la nuova Tiguan, che come vi hanno già detto Sara e Francesca si rinnova in quello che è il suo design. Non parliamo di restyling, ma parliamo di autovettura completamente nuova. Quindi nuove motorizzazioni, nuovi allestimenti. Sono presenti due motori attualmente, un 1.5 benzina e un 2.0 turbodiesel con potenze che variano da 130 cavalli fino anche a arrivare a 200 cavalli. Per quanto riguarda gli allestimenti, sono sostanzialmente tre, Life, Elegance ed R-Line. Qui in esposizione abbiamo l'allestimento R-Line, quindi la versione con i dettagli più sportivi dell'autovettura. Vettura che in tutti i suoi allestimenti presenta la maggior parte dei sistemi comfort e di sicurezza di casa Volkswagen. Quindi troviamo il climatizzatore automatico, troviamo cerchi in lega, troviamo fari full LED, quello che è il sistema multimediale con l'app Link, quindi la possibilità di utilizzare le app del vostro telefono direttamente sul monitor da 8 pollici. Troviamo quello che è le motorizzazioni con i quattro ruote motrici o due ruote motrici con cambio automatico o manuale. Nel dettaglio vi volevo far vedere questo allestimento che è l'allestimento R-Line, che comprende cerchi in lega maggiorati, profili con definizione cromata sul lato delle portiere, nero lucido sul paraurti anteriore, faro full LED e virtual digital cockpit, quindi il cruscotto digitale dove abbiamo la possibilità di rivedere le mappe del sistema di navigazione direttamente sul monitor centrale davanti ai nostri occhi, in modo da avere una guida più sicura e non spostare lo sguardo dalla strada. Tutte le vetture sono dotate di controllo di velocità di crociera adattivo e predittivo come su ID.3 e per quanto riguarda i sistemi di trazione, il nostro 4Motion, che è presente da tantissimi anni e che dà la possibilità di utilizzare l'auto in sicurezza in qualsiasi fondo stradale, quindi neve, montagna, sterrato, per quanto riguarda qualsiasi condizione in sicurezza sull'autovettura. Vi mostro l'interno, dove abbiamo numerose novità. Eccoci qua, a bordo di nuova Tiguan. Troviamo tutti i comandi touch, come vi dicevo, cruscotto completamente digitale, dove ho la possibilità di vedere tutte le informazioni per quanto riguarda l'autovettura, informazioni di sicurezza, di navigazione, telefono e multimediali. Nuovo design del climatizzatore automatico, display da 8 pollici touchscreen o in alternativa con Discovery Pro 10 pollici. Cambio manuale o automatico, sulla versione R-Line interni sportivi con definitura in pelle, alcantara e tessuto centrale. Per quanto riguarda la vettura, ha in dotazione la nuova tecnologia di Volkswagen che si chiama Car2X, dove permette a Tiguan di comunicare con tutte le altre Volkswagen in modalità internet, in modo da avere tutte le informazioni per quanto riguardano quello che è le criticità del banto stradale o eventualmente informazioni per quanto riguardano il vostro percorso, in modo da essere più sicura e connessa. E dopo avervi fatto vedere l'autovettura, volevo ricordarvi quelle che sono le nostre promozioni di autocogliati, super valutazione del vostro usato e fino a 6.000 euro di vantaggi per quanto riguarda l'acquisto di nuova Tiguan. Volevo anche ricordarvi che domenica 25 ottobre saremo qui, ci sarà la possibilità di vedere e toccare con mano i D3 e nuova Tiguan più tutto il resto della nostra gamma Volkswagen ed eventualmente provarle. E con questo vi saluto e vi aspetto qui in Autocogliati Milano. Grazie e arrivederci a tutti. Buonasera e benvenuti in Autocogliati Milano. Sono Daniele e mi occupo dell'usato al primo piano della concessionaria in via Gallarate 253 a Milano. Sono qua per presentarvi alcune delle nostre occasioni che abbiamo qua esposte in salone tra chilometri zero e auto aziendali. Possiamo partire da una chilometro zero, Tiguan in versione R-Line, è un 2000 diesel DSG 4Motion, quindi 4x4, in allestimento business. Macchina ormai introvabile visto la nuova uscita della Tiguan. Venite a scoprirla qua da noi. Passiamo a un'auto aziendale Golf 7, in versione anche questa R-Line, quindi dal fascino accattivante con questi particolari nero lucidi e paraurti molto aggressivi, con fari full LED anteriori e posteriori e easy open, quindi K-less. Passiamo a un'altra auto aziendale, ormai una diventata ammiraglia di Volkswagen, una T-Rock, anche questa aziendale, 1115 benzina, ne abbiamo solo due elementi in questo momento, un allestimento style, bianca col tetto nero, virtual cockpit, percorsi veramente pochissimi chilometri, possibilità di finanziamento con progetto valore Volkswagen e fino a fine ottobre con il rimborso di tre rate. Venite a scoprirla e a provarla. Passiamo a Golf, aziendale Golf 8, in questo caso, 1500 ETSI col matore mild hybrid, in versione style, quindi molto completa, fari full LED anteriori e posteriori, cerchi da 18, tetto panoramico, una macchina che ha percorso pochissimi chilometri, perché era una nostra aziendale, sei mesi di vita. Venite a vederla. Passiamo ad Arteon, una chilometro zero, in versione Elegance, 2190 CV, 4Motion, a 40.900 euro, più passaggio di proprietà. Ci troviamo vicino a Passat, in versione GTE, molto sportiva, con motore da 1.4, 218 CV, plug-in, quindi ibrida, macchina che è fuori da noi a 39.900 euro, visto che è una macchina aziendale, con percorsi 15.000 km. Prezzo di listino, si parlava di macchina da 57.000 euro, quindi una vera, vera occasione. Venite a vederla qua da noi in Autocogliati Milano. Vi aspetto. Un saluto da Daniele. Siamo giunti alla fine, abbiamo visto insieme tutte le nostre novità, le promozioni esclusive e vi invitiamo quindi a venirci a trovare anche per scoprire il resto della gamma. Grazie mille Sara, grazie a Francesca e grazie a tutti voi per l'attenzione. Ciao! Ciao!